Grazie a tutti. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel mondo dei nostri studi in via Cavour 3 a Belluno. Marco Crepa si accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine del Gazzettino del Corriere delle Alpi. Cominciamo con il Gazzettino di Belluno. Ecco come si apre l'edizione di oggi. In primo piano una notizia che riguarda la viabilità bellunese. C'è del terreno chiusa la ferrovia. Nuovi disagi per i pendolari bellunesi. Non si transita fra Longarone e Calalzo i treni sostituiti da un servizio di autobus. Continuano i disagi per i pendolari dei treni bellunesi. A poco più di due mesi dalla riapertura della tratta a Ponte nelle Alpi-Calalzo, la ferrovia del Cadore è di nuovo chiusa. Il provvedimento restrittivo è scattato ieri alle 12.30. Stop ai treni. Si viaggia con le corse sostitutive su gomma, con gli autobus dalla stazione di Longarone per la salita da quella di Calalzo per la discesa. In una nota, Rete Ferrovia Italia, gestore della tratta, spiega. A seguito di un sopralluogo programmato, i tecnici hanno riscontrato la necessità di un intervento straordinario sul ponte ferroviario che collega ospitale di Cadore a Perarolo. I tempi e le modalità di intervento saranno approfondite nei prossimi giorni. Non è la prima volta che la tratta presenta problemi di questo tipo. Nella sola zona oggetto dell'ultimo allarme, la Perarolo ospitale, si contano ben 16 ponti di varie altezze e 10 gallerie. La foto di copertina a San Pietro, un mese fa era stato recuperato con la mamma, morto l'agnellino salvato dai pompieri. Niente lieto fine dopo il salvataggio dell'agnellino ad Acquabuone. Vediamo in questo scatto appunto un momento del salvataggio da parte dei vigili del fuoco che però, lo avete sentito, non ha avuto una lieta fine. Sempre dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, mondo dei sindacati, CGL, chiusa l'era De Carli, sette anni difficili. Oggi finirà il congresso, Casanova pronta alla successione. A Mauro De Carli, segretario uscente della CGL di Belluno, ieri si è ingrinata la voce quando, verso la fine della sua corposa relazione al XII Congresso della Camera del Lavoro bellunese, ha ricordato i fragili che non riescono a curarsi. Qualche secondo di silenzio, poi le ultime frasi fino alla conclusione. Viva la lotta e poi tutti in piedi, 400 mani nel salone della fiera di Longarone, ad applaudire parole dal sapore antico eppure così maledettamente attuali. Una stand innovation conclusa con il dono di un mazzo di fiori rigorosamente rossi all'uomo che per quasi sette anni era stato eletto il 27 maggio 2016 e ha guidato in provincia alle sorti del sindacato. A Gordo, Luxottica, la Cassa di Solidarietà rischia di morire, mancano delegati. La Cassa Solidarietà, lavoratori Luxottica, che assicura prestazioni extra welfare aziendale, cerca delegati per sopravvivere, ma non è facile. L'idea di un impegno minimo di tre ore all'anno comporta grandi difficoltà, è difficile trovare volontari per l'Assemblea. Il fatto, in cura per il Parkinson, un anno per riavere la patente, un banale incidente, una precedenza non rispettata, i rilievi vengono eseguiti dai carabinieri, i due automobilisti vengono invitati ad andare in ospedale per essere sottoposti ai prelievi ematici per verificare la presenza di tracce di alcol o droghe nel sangue. Sorpresa, in quello di PF, queste le sue iniziali, 66enne di Alpago, che era al volante della Punto, una delle due auto coinvolte, vengono trovati residui di metanfetamine. Non si è mai drogato, quei residui sono dovuti al farmaco che sta assumendo per affrontare il Parkinson. Cortina, Moonbike, bici cingolate sulla neve, la nuova frontiera dei mezzi ecologici. Sempre dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, René De Silvestro torna sul podio di Coppa del Mondo, secondo posto a Vaisonaz. L'iniziativa a salvare gli alberi per migliorare l'aria e diventare città verde, notizia che riguarda il capoluogo belonese ancora a Feltrino, Pedavena, Croce Daune, il parco allenta i divieti. Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno, passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi, queste le notizie messe in rilievo. Incominciamo con la mobilità, stessa notizia che abbiamo trovato anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno, cancellati tutti i treni tra Longarone e Calalzo, controlli di routine fanno emergere problemi gravi a un ponte, servono lavori straordinari, andranno valutati i tempi dell'intervento, autobus sostitutivi a disposizione dei pendolari. La foto di copertina ci porta in questo caso a Pedavena, parte l'iter per modificare il regolamento del parco, la Pedavena, Croce Daune, torna a sperare. Il parco delle Dolomiti ha avviato l'iter per modificare il proprio regolamento e la Pedavena, Croce Daune, torna a sperare dopo lo stop della scorsa edizione legato al divieto di gare motoristiche nell'area protetta. Lionello Gorza in ogni caso assicura che quest'anno la corsa si farà. Nella foto vediamo una passata edizione scatto di Flavio Casoni. La norma saldo e stralcio delle cartelle, i comuni sono al bivio. La norma permette di pagare i piccoli debiti senza interessi e more, ma i comuni possono non applicarla. E a proposito di comuni, il capoluogo dipendente in pensione torna al lavoro gratuitamente. Palazzo Rosso, sottorganico, sperimenta questo tipo di collaborazione. Il sindaco spero ce ne siano altri. Continuiamo con il turismo. Appello al ministro. Agli impianti servono 10 bacini artificiali. Ancora dal turismo, svolta digitale, gli albergatori, fibra ottica indispensabile per i clienti. Le storie del Corriere, rifiuti e magazzino vanno separati di fida serene. I lavori all'ecocentro di Serena del Grappa vanno fatti subito, nel giro di un mese, per separare la zona di conferimento dei rifiuti dai magazzini comunali. La diffida formale l'ha fatta la provincia, al comune, che ha il progetto pronto per rifare a nuovo l'ecocentro, ma attende i fonti del PNRR. Questa è la prima pagina del Corriere delle Alpe. Addentriamoci al suo interno. Breve panoramica riferita alle notizie di carattere nazionale, internazionale e regionale. Poi passeremo con i fatti prettamente bellunesi. Pagina 2, i nodi del governo, emergenza carburanti, notizia che ovviamente interessa anche tutti noi bellunesi. L'esecutivo mette il tetto ai prezzi in autostrada. Il Consiglio dei Ministri vara un nuovo decreto, obbligo di trasparenza sulle tariffe. Ci saranno maggiori controlli e sanzioni più alte. Prorogato il bonus benzina da 200 euro. Con la reintroduzione delle accise i prezzi dei carburanti sono aumentati. Vediamo appunto la situazione attraverso questo grafico. Per chi si sta guardando da Facebook e YouTube, prezzi alla pompa di benzina e gasolio, dati settimanali in euro al litro. Entrate in vigore dello sconto sulle accise. Siamo passati appunto da quasi 2,2 euro per il diesel e 2,120 per la benzina. Per poi scendere a 1,6-1,7 e ritornare in questo caso dal 1 gennaio 2023 a 1,8-1,9, sfiorando anche per certi aspetti i 2 euro. Francesco Lollobrigi dall'intervista. Troppo costoso tagliare le accise. Useremo le risorse per la crescita. Il ministro non stiamo perdendo consensi. Gli italiani capiscono. Valutiamo misure per aiutare i settori più colpiti. Dal caro benzina l'intervista vi aspetta a pagina 3. L'incontro Meloni. Prima visita al Papa. Idee comuni sulla natalità ma evitano di parlare di ONG. Dialogo di 35 minuti tra la Premier e Francesco. Convergenza sull'emergenza demografica. Sull'immigrazione evitano i temi più divisi, intesa sugli aiuti europei ai paesi di primo approdo. L'invasione dell'Ucraina. Pagina 5. Le purghe di Putin. Cambio ai vertici. Assalto al Donbass. Solidare e Bangmut sul punto di cadere. Zelensky all'Italia. Dateci subito armi. La ministra Baerbock va al fronte di Kharkiv. Questa la dichiarazione di Zelensky. Solidare completamente distrutta. Non c'è quasi più vita. Ho informato l'Europa dei bisogni urgenti in materia di armamenti. Altra intervista alle sfide della Chiesa. Giancarlo Capaldo. Sul caso Orlandi ero a una svolta. Poi mi ostacolarono forze sconosciute. L'ex procuratore aggiunto che ha indagato. Il Vaticano non ha mai collaborato. Tra i religiosi qualcuno conosce la verità sulla scomparsa di Emanuela. E grazie a questo ha fatto carriera. L'intervista vi aspetta a pagina 7. Approfondimento invece in merito all'emergenza. Covid-19. La variante Kraken preoccupa l'OMS. Ora si rischiano molti più contagi. La nuova forma dilaga negli Stati Uniti ed è già in Europa l'invito a tenere alta la guardia. In Italia ad eccessi a più 9,8%. Fatti adesso che riguardano il Veneto. All'esame i reperti su una bomber verso una perizia entro un mese. Il procuratore di Trieste è al lavoro al vaglio DNA e altri reperti riesaminabili attraverso nuove tecnologie. Regione in questo caso che non è il Veneto ma il Friuli. Venezia. Giulia. Il nipote del boss dell'Andrangheta gestisce i soldi della ricostruzione. Serie di arresti nel Mantovano era stato incaricato dai comuni terremotati di verificare la regolarità delle pratiche. Ma continuiamo con le notizie in questo caso che riguardano i Veneti. Io prima magistrata con il velo. I pregiudizi mi hanno insegnato a valutare senza preconcetti. Ajar Bodra, veronese, studia per diventare giudice. Il velo è simbolo di anticonformismo. L'intervista a firma di Berlinghieri vi aspetta a pagina 10. Libertà civili, scontro sui diritti gay. La regione è contro le marce arcobaleno all'opposizione. Così il Veneto deride un'intera comunità. Formaggio di Fratelli d'Italia richiesta ridicola anche a Carnevale. La regione non sarà presente in via ufficiale alle prossime manifestazioni. Pride è bocciata l'adesione alla rete di istituzioni RIDI contro le discriminazioni. Autonomia in Veneto. Il voto in CDM ora slitta a fine febbraio. Commissione Lep in rampa. Il voto in Lombardia e Lazio. Spinge il governo a rimandare l'esame. Il ministro Calderoli. Tempi confermati. Preintese con le regioni a inizio 2024. È sempre dal Veneto. Pesca il nuovo piano. Normato il braccio di ferro fra pescatori e professionali e sportivi che spesso diventano dei concorrenti. Ma non è stata introdotta la regola della testa mozzata. Andiamo avanti con notizie sempre riferite al Veneto. Falso Tiepolo sequestrato prima dell'asta. Indagato un mercante d'arte trevigiano. Alberto Faldini avrebbe realizzato anche i finti certificati. Nella rete della finanza ha finito pure chi l'ha ceduto alla galleria. Continuiamo adesso con i fatti prettamente belonesi. Siamo a pagina 16. Saldo e stralcio dei debiti fino a 1000 euro comuni a un bivio. Voci contrarie a sinistra. La finanziaria permette di chiudere le vecchie pendenze senza amore e penali, ma gli enti locali possono sfilarsi. Paolo Gamba, vice sindaco del comune di Belluno. Norma importante, può consentire di ingassare il capitale. Stefano Deon, sindaco del comune di Sedico. Provvedimento irrispettoso per chi ha sempre pagato. Mobilità. Il ponte ha bisogno di lavori straordinari. Stop ai treni tra Lungarone e Calalzo. La criticità è emersa durante un controllo di routine tra Perrarolo e ospitale. Trenitalia, attiva bus e sostitutivi. Ecco il piano. Linea chiusa dalle 12.40. Ieri soppresse 11 corse. Non si conoscono i tempi del ripristino. Troverete quindi tutti i treni cancellati e anche quelli previsti per la giornata di oggi. Per maggiori informazioni ovviamente vi invitiamo a visitare il sito di Trenitalia. Pagina 18. Mondo della ricettività. Fibra ottica vitale per gli albergatori. Gli ospiti chiedono connessioni veloci. Gli imprenditori del turismo sognano un cambio di marcia. Indietro rispetto ad altre località dobbiamo recuperare. Molti dei nostri hotel non possono installare le cosiddette smart tv per la linea debole e questo dettaglio può penalizzarci. Questa è la dichiarazione di Walter De Kassan, presidente provinciale di Feder alberchi. E sempre per quanto riguarda il mondo delle imprese, ci ha cambiato la vita nell'industria e come l'aria per lo smart working ma anche per la clientela. Questa è la dichiarazione dell'imprenditore Alessandro Bogo, ovviamente in merito alla fibra entrata in provincia di Belluno. Mondo dei sindacati, dimissioni volontarie e contratti precari. Il Covid ha cambiato il mercato del lavoro. I ricercatori Ires hanno esposto i risultati al congresso della CGL. La ripresa 2021 pagata con la flessibilità dei giovani. Nel marzo 2020 registrato un boom di cessazioni dal posto fisso all'approfondimento. A firma di Paolo Dallanese, a pagina 19. Siamo a pagina 20. Cambiamenti climatici, ristori al centro-sud per la scarsa neve. Qui c'è necessità di bacini artificiali. Oggi il ministro incontra gli impiantisti dell'Appennino. Anef Veneto rilancia anche la crisi idrica. È un problema. Grazie al Comune costruiremo un invaso a Col dei Baldi da 100.000 metri cubi con un investimento da 6 milioni di euro. La dichiarazione di Sergio Pra, albergatore e presidente della società Alleghe Funivia. Venerdì e domenica, escursioni più sicure. Tornano le lezioni del soccorso alpino. E ancora televisione. Nuovo digitale terrestre. Uncem mappa le criticità. Passiamo adesso a un fatto che riguarda il capoluogo bellunese. In anagrafe da pensionato, ex dipendente comunale torna a lavoro gratis. De Pelegrin, un esempio. Palazzo Rosso, sotto organico, sperimenta questo tipo di collaborazioni. Il sindaco ha chiesto di poter dare una mano. Spero ce ne siano altri. L'attività in Piazza Duomo. Voglia di patinare sul ghiaccio. Pista attiva fino a San Valentino, quindi fino a metà febbraio. Incidenti in Viale Europa. Ferita automobilista 92N. Furgone contro Hyundai in Viale Europa. Per mancata precedenza lo schianto. Nel primo pomeriggio una 92N alla guida dell'autilitaria è uscita in lesa. È andata in pronto soccorso da sola per farsi vedere una botta al ginocchio sul posto vigili del fuoco. Rotary Belluno, scambio giovani ancora a posti disponibili. C'è tempo fino al 31 gennaio per iscriversi agli scambi giovani 2023. Un'opportunità offerta da Rotary Club Belluno ai giovani dai 15 ai 25 anni intenzionati a vivere un'esperienza reciproca all'estero. Venerdì alle 18. La Copsa Marcanda ricorda Rigoni a cinque mesi dalla morte. Continuiamo con le notizie riferite al territorio bellunese. Siamo a Feltre. Il parco modifica il regolamento. La Pedavena, Corce Down e Spiera. Iniziata la raccolta delle osservazioni, la norma applicata l'anno scorso impidi la gara motoristica. Il sindaco Castellazze, sindaco del comune di Pedavena, può diventare motore di sviluppo per il territorio. Feltre, novantenne investito lungo via Rizzarda, è stato portato al pronto soccorso per gli accertamenti e le medicazioni del caso, ma non corre pericolo di vita. L'anziano Feltrino investito ieri pomeriggio nella vicinanza della rotatoria delle caserme. Seren del Grappa, Lavastoviglia e Sincendia, arrivano i pompieri. E sempre a proposito di Seren del Grappa, Palazzo Piloni diffida il comune. Subito i lavori all'ecocentro, imposta la separazione dai magazzini. Il sindaco Scopelle c'è il progetto per quello nuovo. Aspettiamo i fondi. Gesiotte ha confermato la guida della mostra dell'artigianato. Notizia che riguarda sempre Feltre. Fonzaso aiuti alle associazioni tutti i contributi erogati. In questo caso arrivano anche 150 euro all'associazione Bellunesi nel mondo. Grazie, in questo caso, alla comunità e all'amministrazione soprattutto di Fonzaso. Siamo a pagina 25. Rivoluzione tra i libri. Lamon Biblioteca cambia la gestione. Scende in campo Lamon Servizi. Il comune sospende l'attività in attesa di mettere a punto la convenzione. L'assessore dell'Agno al progetto con la Proloco per valorizzare l'ex bibliotecaria. Cesio Maggiore orsera i fondi di confine. Il sindaco Zanella accelera sui lavori da far partire. Arsi. Manca la verifica dell'autovelox. Nuova multa annullata. Siamo a Limana con pagina 26. Un accordo per diciottenni. L'illuminazione pubblica cambierà radicalmente. Gestione Lampioni. Operativa all'intesa tra pubblico e privato. La rete di San Poi verrà sistemata nell'arco di sei mesi. Spazio Amico da 13 anni. Promuove la pratica del riuso per aiutare chi ha di meno. La presidente Franca Bogo parla di un'autenza di circa 500 persone. Quasi tutti gli italiani donano di tutto. Gli stranieri per lo più prendono. So Spirolo Mario Sogni ha confermato la guida degli alpini ma serve un ricambio. Continuiamo con Longarone. L'autopsia conferma. Morto per la caduta. Ora si cercano i parenti per i funerali. Dino Bampa, 84 anni, è stato ritrovato senza vita da un amico vicino alla chiesa di Faè. È stato residente anche a Belluno. L'84enne originario del Trevigiano in provincia aveva lavorato molti anni fa. Ponte nelle Alpi, trasformazione digitale dal PNRR, 172 mila euro per potenziare i servizi. Al pago, overdose alla festa, il giudice assolve un imputato condannato l'altro. L'accusa aveva chiesto la reclusione per i due giovani su cui pendeva l'imputazione di detenzione e spazio di sostanze stupefacenti. Altre due notizie. La prima al pago, furto scampato in casa, due sconosciuti in fuga. Longarone, Caminioga, sabato il primo appuntamento. Spostiamoci a Rocca Pietro e con pagina 28, ufficio turistico di Sottoguda, il comune in cerca di gestori. Investimento di 136.500 euro in gran parte proventi dalle tasse di soggiorno. Il sindaco De Bernardin speriamo arrivino molte manifestazioni di interesse. Il tutto aspettando la riapertura dei Serrai che è in previsione per la primavera del 2024. Val di Zoldo, una nuova terna veniere in dotazione al comune e ancora a Fornasier. A Gosaldo, un addiole scene dedicato alla vallata. Su invito di Lina Marcone della parrocchia dopo le esibizioni tenute già nel 2004 e nel 2015. Cortina, pagina 29. Bob e Curling, scelte irreversibili. Baselga punta ad avere impianti. Il 18, la scelta del progetto per la Monti che verrà subito incardinato sul binario delle autorizzazioni. E a proposito di Olimpiadi, una moneta da ventiero del tesoro per ricordare le Olimpiadi del 1956. Cognata aspettando l'edizione 2026. In Italia, a corso legale da ieri, diametro 21 mm, peso 4 grammi. L'ha disegnata Silvia Petrassi. Auronzo, i vincoli al Consiglio di Stato. Veccellio grida al tradimento. Il sindaco di Auronzo ci va giù duro per l'udienza sul ricorso ambientalista. La tutela del territorio è già al 96%. Aumentiamola e lasciamo spazio ai lupi. L'avvocato Bruno Barelli, il TAR, aveva deliberato e chiuso la questione. A che serve riaprirla? Notizia di spalle. Scusate, pieve di cadore. Il Melvin Jones del Lions ad Angelo De Polo. Andiamo a pagina... No, rimaniamo in questa pagina con una notizia che riguarda il Comelico Superiore. L'universo femminile da indagare in quattro serate. Per maggiori informazioni, visitate il sito del Comune di Comelico Superiore. La rubrica Cultura e Società apre con il libro Spei rinvade il mondo, la verità del Principerri, senza sconti per nessuno l'autobiografia. Di scorta sì, ma non un idiota, tanta rabbia e un messaggio, la ferita insanabile in una vita caridoscopica privilegiata e sempre paparazzata. Tutto questo dentro le pagine. Ma parliamo anche di provincia di Berone Cultura, con la rubrica Giorno e Notte. Siamo a pagina 33, musica, danza, letteratura da tutto esaurito. A Cortina c'è tanta cultura accanto allo sci. Finora 20 appuntamenti per una montagna di libri che riprenderà il 20 gennaio. Cortina a teatro, torna il 18 febbraio. Pedavena, cinque giorni a Murle con la festa di Sant'Antoni. Feltre, non solo trippe, da domani alla Sagra di San Marcello. Passiamo allo sport on snowboard, Coppa del Mondo. La corsa di Dalmasso a Kefont si ferma agli ottavi di finali. Due errori nella parte svantaggiata della pista frenano le atlete bellunesi a Mad Gastein. Primo trionfo dell'ex Ski College Falcade, Maurizio Bormolini. Scialpino dal 20 al 22 gennaio. Cortina, via libera della FIS. Iniziati i lavori sulla Olimpia per la Coppa del Mondo. Scialpino paralimpico. René De Silvestro 2023 inizia con un argento nel gigante di Weissonats. Curling a Costantini e compagna alle finali del Canadian Open. Ancora sport, calcio eccellenza. A parte di Sicoccolo al Bebi Arseni a potenzialità importanti. Domenica sedi con la sfida salvezza contro i careni del bellunese Ferro. Calcio a mercato promozione. Longarone alpina su Gazzola e si valuta Ibrahim Borima. Serie D ancora. Giusti carica da Dolomiti i bellunesi. Voglio la grinta di Villafranca. Volley a tre. Lo schiacciatore è tornato in campo. Brughero. Candeago è un'arma in più per la Darold. Sto bene, sono a disposizione di Colussi. E ancora il felter ghiaccio fa sognare i tifosi. Zampol c'è un clima incredibile. Questo per quanto riguarda l'Hockey di Serie C. Nuoto 28 medaglie dei master bellunesi in Vasca Monastier al Casa di Caccia. Coppa Italia. L'Inter soffre col Parma ma passa Buffon. Cede i supplementari. Ancora in campo oggi alle 21. Dopo la frenata in campionato il Milan cerca riscato a San Siro contro il Torino. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani. Di notte inizialmente cielo coperto e poi restrenamenti da ovest. Nelle ore diurne è poco parzialmente nuvoloso. Di sera nuvolosità in aumento. Precipitazioni sulla pianura e sulle prealpi. Di notte probabilità bassa. Dal mattino assenti sulle dolomiti. Probabilità medio-bassa saranno sparse anche qui modeste discontinue con quote neve attorno ai 1100-1400 metri. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belun. Vi ricordo che doneremo in replica questa sera via streaming alle 20 domani mattina all'Una ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Belunesi del Mondo. Grazie. 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 Grazie.